Ora voltiamo pagina e andiamo ad Orvieto perché DS Automobiles, che è il nuovo brand del gruppo PSA, ha incontrato l'associazione GRE Italia, che è un'importantissima associazione dei chef a livello internazionale. E nel servizio vediamo come si abbina l'eccellenza dell'automobile con l'eccellenza della cucina. L'eccellenza della cucina incontra l'eccellenza dell'auto. E' accaduto a Orvieto in occasione del congresso nazionale di GRE Italia, una delle associazioni di chef più importanti a livello internazionale. Il congresso dei giovani ristoratori europei ha rappresentato un momento di incontro tra i migliori professionisti italiani della ristorazione e per la prima volta nella sua storia si è unito ad un marchio automobilistico con cui condivide la stessa passione per l'eccellenza. Il Sour Fair, la ricerca di nuove soluzioni all'avanguardia, l'audacia imprenditoriale. DS, con la sua gamma al completo, è stata così protagonista di primo piano di questo straordinario incontro dove i migliori giovani chef italiani hanno dato vita ad una performance culinaria di assoluto prestigio. È un abbinamento che mette insieme dei valori estremamente importanti che il marchio DS condivide con i giovani ristoratori. In realtà costruire un piatto e costruire una macchina sono due processi che possono essere visti abbastanza simili. Partono dalla ricerca delle materie prime, le materie prime possibili, parlano del Sour Fair di costruire un piatto o di costruire una vettura e parlano poi dell'esperienza che si vuole far vivere ai clienti. Sono esattamente su questi tre punti che c'è un'affinità piena tra la cucina e il marchio DS e a questo punto con i giovani ristoratori d'Europa perché sono un'associazione di chef con delle caratteristiche, dei valori che sono in assoluta sintonia col marchio DS. Come in tutti i campi le eccellenze, le passioni sono importantissime. Con DS abbiamo avuto questa partnership perché anche loro racchiudono il talento e la passione e la ricerca delle eccellenze per realizzare queste splendide auto-vetture. E ora un attimo di respiro, noi ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo ritorniamo. Con Peugeot e con Volvo che adesso prova a farsi consegnare la merce appena acquistata in vettura. A tra poco.